Ciao ai giovani, consigliere comunale che si occupa di questo. Ecco, uno spazio finalmente, un po' di spazio anche di movimento per lo sport, sempre di sicurezza, però per dare un po' di gioia e di serenità. Che si sta facendo di bello in questo momento? Come tu ben sai, c'è sempre stato il campo di beach volley, solo che causa zona arancione e rossa, non si potrebbero praticare sport all'aperto. Questo è un bel segno di speranza. Esattamente, e poi nell'attesa che monteremo il Lido, che dovrebbe partire da giugno, Il forum dei giovani a che punto è? Il forum dei giovani è stato approvato il regolamento all'unanimità come ben sai e per le elezioni stiamo aspettando la prima data utile per poterle fare. Speriamo di farle il prima possibile, ma verosimilmente... Fino a che età diciamo? Dai 16-34 anni hanno diritto a voto. Dai 16-34 anni, quindi cominciamo già ora a dire che il forum è uno spazio molto utile, molto interessante. La sede ci sta, lo sappiamo tutti, è la sede delle scuole elementari. E quindi quando prima possibile faremo le elezioni per il nuovo comitato. E quindi una grande speranza per i giovani, abbiate fiducia, soprattutto a giovani che si sono visti chiusi, mortificati diciamo nel loro modo di essere. Assolutamente, è stato un periodo un po' brutto per tutti, però piano piano stiamo cercando di tornare alla normalità. E faremo anche tutti i vaccini al più presto. Amiche, quando ti vuoi fare una partita con noi? Ok, grazie, a disposizione, ciao.